Unioni civili, regolamento sull'istituzione del registro, pro dal Consiglio Comunale, all'esame del Consesso Civico di Ragusa e il nuovo strumento che prevede la parificazione delle unioni alle famiglie tradizionali. Teatro Concordia è ancora polemica e il progetto di recupero dell'ex cinema marino viene ritenuto troppo oneroso. Oggi pomeriggio animalisti in piazza con il loro animale al guinzaio. La manifestazione è in piazza posta a Ragusa e radune alle 16. Il regolamento sull'istituzione del registro amministrativo delle unioni civili approda in Consiglio Comunale a Ragusa. Lo scorso 15 luglio è stata presentata una petizione popolare per l'istituzione del registro comunale delle unioni civili e l'approvazione del relativo regolamento che consentirebbe alle coppie conviventi, scritte etere e non, la completa parificazione rispetto alle coppie sposate nelle delibere comunali relativamente ad alcune specifiche aree tematiche. Vedi la casa, la sanità, i servizi sociali, le politiche per i giovani, genitori anziani, sport e tempo libero, formazione, scuole e servizi educativi. Queste coppie dunque potrebbero così accedere senza nessuna discriminazione rispetto alle famiglie tradizionali a tutti i servizi forniti dal Comune evitando condizioni di svantaggio sia economico ma anche sociale. Sì, la posizione nostra è una posizione logica naturale che deriva ed è collegata direttamente alla legislazione che in questi giorni è stata approvata all'ARS. Gli articoli 26 e 39 di questa finanziaria approvata proprio recentemente parlano chiaro in materia di aiuti a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. Ovviamente la famiglia è ben tutelata dalla Costituzione, dal Codice Civile ed è altre da una normologia storica e io non dico che non ha bisogno di ulteriore tutele, anzi è in continua evoluzione questo. Però noi dobbiamo andare avanti nel tutelare tutte le categorie di persone, chi ha bisogno e chi si trova in condizioni di emarginazione. Questo era un provvedimento che era già stato discusso, doveva andare in Consiglio Comunale già durante l'esperienza del commissario Margherita Rizza. Però per via del tempo che non bastava non è arrivato a essere discorso né in Commissione, credo neanche in Aula, perché come tutti voi sapete poi ci sono state le elezioni amministrative, per cui per due mesi antecedenti alla data dell'elezione l'attività consigliare, se non per cose urgenti, si è fermata. Per cui era qualcosa che già era in programma prima, poi ci saranno state raccolte di firme da parte di alcuni movimenti civici, questo è tutto avvenuto successivamente. Una città civile come Ragusa non può fare a meno di un regolamento del genere che, se possibile e se sarà necessario, però potrebbe anche essere emendato in senso correttivo. Un progetto totalmente da rivedere, con un impegno di spesa assai oneroso. Il recupero dell'ex teatro marino a Ragusa solleva dubbi e perplessità tra i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Ma intanto bisogna stabilire e capire di cosa stiamo parlando, e questo è il primo problema in assoluto, perché, come forse pochi ragusani sanno, il teatro La Concordia non esiste più. Il teatro La Concordia è stato demolito per costruire il cinema marino. Quindi comunque del teatro La Concordia attualmente non esiste niente a parte la facciata storica. Quindi questo già è una prima cosa da puntualizzare e da chiarire alla cittadinanza. Dopodiché c'è un progetto che è stato fatto dalle vecchie amministrazioni, che sono 17 anni che lavorano, anzi che fanno burocrazia in tal senso, e questo progetto è finalizzato alla realizzazione di un teatro. Però ha diversi problemi il progetto. Il progetto purtroppo non prevede l'utilizzo del teatro, per esempio, per la musica lirica, per la musica classica, quindi comunque in ogni caso dopo una spesa così grande, perché stiamo parlando di 8 milioni di euro, probabilmente Ragusa avrebbe un mezzo teatro. Quindi allora noi dobbiamo rivedere il progetto, vedere se questo progetto ci porta al teatro definitivo, cioè al teatro comunale di Ragusa, dopodiché potremmo andare avanti. Poi ci sono anche altri problemi legati alle uscite di sicurezza, come sappiamo perché il cinema marino, alle spalle del cinema marino c'è un cortile privato col quale ad oggi non esistono accordi al fine della realizzazione delle uscite di sicurezza. L'immobile, nelle condizioni attuali dell'immobile, sono da demolizione. Considerate che l'immobile è un capannone in cemento armato, tale capannone in questo momento è con il tetto cadente, all'interno ci sono perdite d'acqua, acqua ovviamente piovana, e inoltre ci sono numerosi animali all'interno. Quindi comunque l'immobile è fatiscente e in ogni caso nel progetto futuro va demolito, quindi non si parla di un restauro di un immobile, ma la demolizione e il rifacimento di un immobile per intero. Mentre compivano un furto in un'azienda, i proprietari dell'azienda vittima di questo reato li vedevano sui loro cellulari grazie a un sistema di videosorveglianza che era stato installato sul telefono mobile. È accaduto a Ragusa. La polizia di Stato, in particolare gli agenti e la squadra volanti, sono riusciti ad arrestare in flagranza di reato Alessandro Scatà, Salvatore Scatà e Stefano Basile, tutti ragusani, per tentato furto ai danni di un'azienda, ma anche per portodarmi e il tutto al gravato dal fatto di averlo commesso in più persone di notte e col volto travisato. L'azienda, vittima di questo tentativo di furto, opera nel ramo installazione impianti elettrici. Il proprietario ha ricevuto l'allarme sul proprio telefono cellulare quando qualcuno, appunto i tre, si erano introdotti all'interno dei magazzini. Sono riusciti a vedere i ladri in azione, praticamente in diretta, e hanno subito contattato il centro 13. Nel frattempo, rimasto la vittima al telefono con l'operatore di polizia, gli agenti, due volanti sul posto, sono riusciti ad entrare all'interno dell'azienda e hanno trovato i tre ladri nascosti in un'intercapedine del magazzino. Quando i tre uomini si sono scoperti il viso, la polizia di Stato li ha riconosciuti, erano tutte e tre dei pregiudicati. Ieri il drammatico appello lanciato dal marito della signora Mariella Russo, affetta da MCS, che ha scosso le coscienze e l'opinione pubblica iblea e ha registrato una serie di adesioni. Oggi una presa di posizione della segreteria provinciale della CGL che si rivolge direttamente all'assessore regionale della salute Lucia Borsellino. Si sono intrecciate una serie di interlocuzioni dall'ultima nota che abbiamo inviato, è stata il 13 novembre la missiva inviata dalla CGL provinciale all'assessore Borsellino. Ora il segretario Giovanni Avola chiede e sollecita una possibile soluzione al dramma di Mariella Russo che dall'11 dennaio del 2014 è ricoverata nell'ospedale londinese per l'ennesimo ciclo terapeutico che sarà concluso il prossimo 3 febbraio. Un preventivo di spese ospedaliere di 20.666,80 sterline, pari a circa 24.000 euro. Gli uffici regionali hanno già approvato il relativo rimborso nella misura di 12.443 euro, ma mancano 10.000 euro che la famiglia Russo non ha e non si può permettere di pagare dato che non può accendere altri mutui dal momento che è già profondamente indibitata. Per le dimissioni del 3 febbraio i familiari della signora Russo dovranno versare all'ospedale la somma richiesta, senza la quale non saranno consegnati i vicicini necessari per la sopravvivenza dei prossimi mesi. Ed i vaccini, Mariella Russa, sottolinea il segretario provinciale della CGL, ne dovrà fare ben 14 al giorno. Il segretario della CGL sollecita l'eventuale ricorso ai fondi speciali della Presidenza della Regione per salvare Mariella. L'appuntamento degli animalisti di Ragusa è previsto per oggi pomeriggio alle 16 in Piazza Poste davanti al Palazzo Municipale di Ragusa. Le associazioni animaliste hanno organizzato la manifestazione per il rispetto degli animali e dei randaggi e così tutti quanti si daranno appuntamento portando i propri animali muniti di collare, guinzaio, museruole e palette per affermare che i diritti dei più deboli vanno tutelati con tutta l'attenzione necessaria e se si vuole risolvere il problema del randaggismo, scrivono nel manifesto, non si può più intervenire in maniera approssimativa. Sotto accusa la questione randaggismo in una città dove il randaggismo appunto diventa sempre più diffuso, ma anche l'abbandono di cani e soprattutto la riproduzione incontrollata in strada. Il randaggismo è ormai un'emergenza da ricorrere di volta in volta. Invece, secondo gli animalisti, va affrontato con grande attenzione e con procedure razionali. Non è una problematica di secondo o terzo livello, ma oggi più di prima rappresenta un pericolo reale per tutti e non un capriccio degli animalisti. Al centro commerciale Ibleo, sconti di tutti i colori. Oltre 55 negozze con un assortimento nel reparto abbigliamento unico nel suo genere. Il centro commerciale tra breve avrà una nuova struttura esterna al coperto per consentire anche nelle giornate fredde e piovose di posteggiare l'auto e fare lo shopping. Esatto, il centro commerciale Ibleo ormai sta diventando e è diventato la struttura più importante sulla provincia di Ragusa per quanto riguarda tutta l'attività commerciale. Dagli ultimi anni abbiamo inserito nel nostro parco commerciale numerose insegne, tra cui l'ultimo anche Pittarello nella zona esterna del centro commerciale. Il centro ha avuto negli ultimi anni un buon andamento, si è appena chiuso il 2013 in positivo, abbiamo avuto un buon riscontro sia in termini di fatturato che di affluenza. Questo ci dà coraggio e ci spinge a lavorare sempre nella giusta direzione. Ripeto, all'interno della nostra struttura il cliente ha la possibilità e la varietà di numerose insegne e di calibro nazionale, quindi tra cui Piazza Italia, legato l'abbigliamento, Scarpe Scarpe, Cisalfa, H&M per i teenager, gruppo Euronics, molto solido su tutta la Sicilia, Pittarello Rosso come dicevo prima, a livello sportivo Decathlon e infine Brico per il Bricolage. Mentre la piattaforma alimentare che traina un po' il tutto è l'ipermercato con Ipercoppa. Direttore, ovviamente non solo è periodo dei saldi, si guarda oltre il carnevale ormai imminente, ci saranno sicuramente tante altre iniziative all'interno del centro commerciale. Sì, quello che vogliamo dare e offrire ai nostri clienti è sempre qualcosa di diverso, pur rimanendo legati al territorio e alla realtà locale. Nei prossimi mesi quindi ci saranno una serie di attività che poi di volta in volta comunicheremo sui vari mezzi tv, cercheremo di dare sempre qualcosa di nuovo ai nostri clienti e tutte le volte che il cliente viene al centro commerciale Ibleo è come se fosse a casa, perché trova intrattenimento, trova qualsiasi cosa a suo piacimento. Un centro commerciale che si apre alla città di Ragusa? Sì, molti lo chiamano la seconda piazza di Ragusa. Ormai i centri commerciali, avendo anche un'apertura ormai quotidiana, quindi dal lunedì alla domenica, stanno diventando un po' le seconde piazze, luogo di aggregazione. E penso che l'Ibleo è vicino sia ragusani ma anche a tutti gli abitanti della provincia. Colto in flagrante, una commedia brillante del Teatro Utopia di Ragusa con la regia di Giorgio Sparacino. La commedia drà in scena l'8 febbraio al Teatro Garibaldi di Modica e il 28 il grande butto al Teatro Don Bosco a Ragusa. È un lavoro importante perché anche le commedie leggere hanno sempre necessità di essere messe a punto in maniera precisa e puntuale. Quindi più un copione è leggero, oserei dire, più è difficile. Questa è una macchina da risate e quindi bisogna trovare i tempi comici, bisogna trovare le situazioni da valorizzare e capirete tutti che è una cosa di grandissimo impegno. La trama è basata sulle avventure estraconiugali di Phil, il quale approfittando degli spostamenti tra casa e ufficio, sui pullman conosce delle ragazze e malgrado sia oltre gli anta è un abitué della seduzione, dell'avventura estraconiugale. Questa volta però gli va un po' male perché in seguito a una serie di contrattempi, di equivoci, la moglie viene alla fine a sapere che c'è qualcosa che non funziona e che ha bisogno di essere aggiustato. Non anticipiamo il finale perché è ricco di colpi di scena e quindi è sempre meglio venirlo a vedere piuttosto che sentirselo raccontare. Ricordiamo per il gentile pubblico gli appuntamenti di questa commedia brillante americana e di quell'autore Benfield. Debutiamo sabato 8 febbraio al Teatro Garibaldi di Modica, poi al Don Bosco il venerdì 28 febbraio e poi domenica 16 marzo al Naselli di Comiso. Io sono Federica Bisceglia, interpreto Greta nello spettacolo Ricolto e Infragrante di Derek Benfield e sono una delle tante fiamme di Phil, il personaggio, che si dimentica di me e quindi io interrompo la scena con alcuni atteggiamenti piuttosto strani. Sì, buonasera, io sono Marco Antoci, interpreto il personaggio di George, l'amico fedele fidato di Phil, che sarebbe il protagonista della commedia Colto e Infragrante di Derek Benfield. Io sono Giulie, in Colto e Infragrante, in realtà sono Monica Bisceglia, non vi anticipo nulla sul mio personaggio ma vi aspetto nelle date prefissate dello spettacolo. Io sono Natalina Lotta, una cameriera piuttosto petulante, sospettosa, è quella che un pochino sospetta i vari intrighi che si vengono a creare. Sono Ornella Cappello e faccio Maggie in questa commedia e sono la moglie del protagonista, la moglie tradita, tra virgolette, che tradisce anche lei. Io sono Giorgio Gurrieri e nella commedia interpreto Brasset, che sarebbe un pompiere che ha la mania di spegnere in continuazione incendi. Dove vede il rosso parte subito a spegnere i cosiddetti incendi. Non vi dico che rapporto ho con i personaggi, lo scoprirete venendoci a trovare. Sono Caetano Celestre e il mio personaggio si chiama Alan, frequenta molti parti e conosce molte ragazze.